Il nuovo decreto legge emanato dal governo sul Green Pass non risolve il problema dei guariti da più di un anno e vaccinati con una sola dose, che ora guardano con preoccupazione alla data del 15 ottobre, quando il certificato verde sarà obbligatorio per i luoghi di lavoro. In provvedimento licenziato dal Consiglio dei Ministri nel pomeriggio di giovedì, accedera l'ottenimento del Green Pass per chi è guarito dal Covid da meno di un anno e viene vaccinato con una sola dose. Il certificato arriverà subito dopo l'iniezione e non bisognerà più aspettare due settimane come è avvenuto finora. Rimane però il problema di chi ha avuto il Covid e si è vaccinato a distanza di oltre un anno. In questo caso è ancora prevista la doppia dose per poter avere il Green Pass. Ci sono però tante persone che, anche sul Consiglio del Medico, la seconda dose non l'hanno fatta e quindi non hanno diritto al Green Pass. È una conseguenza che dipende dall'andamento della pandemia e da quello della campagna vaccinale. Il Covid è esploso in Lombardia a inizio primavera 2020 e la campagna vaccinale è entrata nel vivo alla fine della primavera 2021. Sul nostro territorio c'è una quantità notevole di persone che hanno avuto il Covid tra marzo e aprile del 2020 e hanno ricevuto la prima dose di vaccino a maggio-giugno 2021. 14 mesi dopo la guarigione per la legge sono considerati vaccinati solo con due dosi. Molti di loro però, e lo sappiamo dalle tante testimonianze che ci giungono in redazione, non hanno fatto la seconda dose. Diversi medici di base, infatti, per i casi di persone che avevano avuto il Covid in maniera pesante nella primavera 2020, avevano consigliato di fermarsi alla prima dose a seguito di un test che rilevava un'altissima presenza di anticorpi nel sangue. Queste persone per legge non potranno avere Green Pass, a differenza di chi, semplicemente, si è ammalato un mese dopo di loro o, in alternativa, ha avuto l'opportunità di vaccinarsi un mese prima, rientrando quindi nell'anno di distanza tra vaccinazione e guarigione che prevede il ciclo completo con una sola dose. I rari casi di esenzione previsti per legge, infatti, toccano soltanto i casi clinici di chi non può, per varie ragioni, sottoporsi al vaccino, ma non prende in esame le persone a cui è stata sconsigliata la seconda dose. Queste persone, in Lombardia, per le ragioni che abbiamo spiegato, sono tantissime, rimangono nel limbo. Hanno il parere del proprio medico che sconsiglia la seconda dose e una circolare ministeriale che invece indica che la seconda dose va fatta. Finora queste persone hanno rinunciato ad andare al ristorante o allo stadio, ma dovranno per forza prendere una decisione nel momento in cui il Green Pass sarà necessario per lavorare.